Ciao, buongiorno. Prego, hai fatto colazione? Sì. Allora, puoi sederti lì. Amare e donare e salvare vite. La conferenza di questa mattina nella sala giunta San Cetteo a Palazzo di Città Pescara iniziata con la proiezione di poche immagini. Lo spot promosso dall'Avista ha annunciato la firma di un protocollo con la ACLI e la società di salvamento. Noi invitiamo tutti i cittadini a venire in tutti i centri di raccolta sangue per donare sangue. Noi abbiamo la sede in piazza Salvo d'Acquisto che è in zona Porta Nuova proprio per poter venire a fare anche una colazione un po' più fresca ma aiutare gli altri che è fondamentale. Le associazioni unite in un gioco di squadra con i propri mezzi tesserati in premis per diffondere la cultura delle buone pratiche che vanno anche nella direzione dei comportamenti giusti da avere in spiaggia o in mare. Purtroppo, come dicevo, causa Covid abbiamo sospeso quelle che erano le raccolte e la donazione del sangue per tante motivazioni. Però adesso, tornando un po' alla normalità, le operazioni che prima erano state sospese causa Covid adesso sono state riprese. Oltre al fatto che è aumentato l'utilizzo del sangue, purtroppo anche per via di incidenti, di operazioni che sono state riprogrammate e l'estate capita sempre, purtroppo, qualche incidente che ci porta a dover sopperire a questa mancanza. Qual è lo slogan? Lo slogan è amare e donare e salvare i video umani. E troverete questa campagna su tutti i social, sulle tv, sia attraverso uno spot televisivo e sia attraverso anche dei cartelloni pubblicitari per tutta la città. E per questo ringraziamo anche il Comune di Pescara per averci dato il patrocinio a titolo gratuito.